si arriva a chi usava ehi sono andato papà non è un'altra cosa si pensi a camera ehi ehi si è tornato al posto tuttum e che? questa cinghiera di gioco qui non si può mangiare la parola che non posso no non avranno qui stupita qua che manca la sua dai che mi fai che sono un po' la faccio un po' mi è la prestata la vostra se fu un video ma chi se capace che stanno facendo la protezione civile allora arrivano tutti sulla nota avete una protezione civile e vanno tutti a destra ma chi se vanno tutti a destra ma come ce vede vanno tutti no 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 A presto, a presto. Vai che c'è la patta va